Di fronte a quanto sta accadendo in Venezuela, resta cauta l'ambasciatrice all'Unione Europea, Claudia Salerno, che gioca ancora una volta la carta di un equilibrismo ormai difficile da calibrare. Ai nostri microfoni ha dichiarato, Guaidó rappresenta un rischio per la vita e la sicurezza e la stabilità di tutti i venezuelani, perché questo signore, il 24 febbraio, dal territorio di un altro paese ha detto e menzionato la possibilità di tornare in Venezuela perché l'Assemblea nazionale approvasse un intervento straniero sulla base dell'articolo 187.11 della Costituzione che dà potere all'Assemblea nazionale di autorizzare l'intervento straniero nel paese. Quindi credo che con un programma così chiaro e pericoloso non solo Guaidó sia a rischio ma tutti i venezuelani. Grazie.